La produzione del valore economico generato dall'impresa e la sua distribuzione sono al centro del documento di bilancio di coerenza della Banca di Ripatranzone e del Fermano. Per parlarne sono oggi i nostri ospiti Vito Verdecchia, direttore generale dell'Istituto Bancario e Alessio Rubicini, responsabile amministrazione, incassi e pagamenti. Alessio, nel dettaglio come si articola questo documento? Il documento trae spunto dagli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 dell'ONU e partendo da questi obiettivi declina come la Banca si adopera nella propria attività quotidiana per raggiungerli. Parliamo di obiettivi quali la sostenibilità economica e finanziaria, la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e la coesione sociale. Il documento si articola in tre sezioni, c'è una prima sezione puramente introduttiva che illustra le linee generali del documento, c'è una seconda sezione che è più generale, possiamo definirla un bilancio di coerenza dell'intero credito cooperativo italiano e nel mondo e poi c'è la terza parte che è il bilancio di coerenza vera e propria della nostra banca. Gli obiettivi di cui parliamo sono obiettivi che sono scritti da sempre nel DNA delle nostre BCC in quanto li ritroviamo sia nello statuto dove all'articolo 2 parliamo dell'attività della banca che è destinata appunto a crescere la coesione sociale, il benessere dei clienti e del territorio in cui la banca opera e li ritroviamo anche nella carta dei valori del credito cooperativo che pone come obiettivi principali la centralità della persona, la formazione degli operatori della banca, l'onorabilità e l'impegno che i dipendenti e gli amministratori della banca mettono nello svolgere la propria attività. Mi piace ricordare quello che era lo slogan utilizzato nelle campagne promozionali delle nostre BCC qualche anno fa che diceva la mia banca è differente e diciamo leggendo, analizzando il bilancio di coerenza della nostra banca possiamo capire perché la banca di riparazione del Fermano è differente. Direttore, quali sono gli aspetti più significativi a suo avviso che si possono trovare all'interno di questo documento? A me piace partire da un riferimento che ha fatto Alessio che è quello delle persone e proprio appunto il bilancio di coerenza fa un focus particolare su quello che è il rapporto della banca con le persone ma le persone intese sia come soggetti del territorio ovviamente che sono i nostri soci, i nostri clienti ma le persone che sono anche appunto le risorse umane delle quali la banca si avvale ovviamente e che contribuiscono alla creazione di questo valore che poi generiamo e redistribuiamo sul territorio. Mi piace appunto sottolineare il fatto che la formazione è uno degli elementi che viene appunto messo in focus in questo documento la banca ha allargito oltre 4.000 ore di formazione nel corso del 2022 pari quasi a 70 ore per dipendente ha cresciuto il proprio organico di ben 6 unità su 54 quindi quasi il 12% attorno al 12% e quindi ecco questo documento focalizza in particolare queste tematiche comeppure un altro aspetto che mi piace rilevare tra i tanti che poi sono presenti in questo documento che poi ovviamente andremo a pubblicare sul nostro sito web c'è anche il tema della litigiosità bancaria un aspetto molto importante da rilevare è il fatto che il credito cooperativo è a livello bancario il sistema che presenta il tasso più basso di litigiosità bancaria addirittura poco sopra l'1% di ricorsi presentati all'arbitro bancario e finanziario e in questo percentuale particolarmente bassa mi piace evidenziare la nostra che addirittura è pari a zero perché la nostra banca da diversi anni a questa parte anzi da quando è stato istituito l'arbitro bancario e finanziario non ha mai dovuto ricorrere a questo istituto per poter regolare le eventuali controverse con la propria clientela Grazie dunque per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento su Radio Azzurra Grazie a tutti